Ore 10.30, lezione di massaggio cardiaco. I bambini delle primarie eseguono con precisione e impegno i movimenti sui manichini, così come hanno spiegato loro gli operatori, medici e infermieri degli European Resuscitation Council. Sembra un gioco ma non lo è. Queste manovre, eseguite correttamente, possono davvero salvare una vita in attesa dell'ambulanza. Abbiamo insegnato come riconoscere un paziente in arresto cardiaco, abbiamo insegnato come effettuare la chiamata al 118, abbiamo chiamato veramente il 118, che era stato avvisato. Abbiamo insegnato a fare un massaggio cardiaco a ritmo di musica e queste sono le manovre fondamentali che devono essere fatte all'inizio, appena una persona perde conoscenza, perché se no per quanto il 118 arrivi velocemente c'è sempre una latenza, c'è sempre qualche minuto e noi non possiamo perdere questi minuti. Perché le nostre cellule cerebrali muoiono dopo dieci minuti in cui non ricevono l'ossigeno dato dal sangue e quindi il nostro obiettivo è quello di garantire una perfusione, cioè garantire che il sangue vada in circolo grazie al massaggio cardiaco. La scuola Leardo-Aleardia è stata l'unica ad aderire all'iniziativa per le primarie della giornata odierna all'interno della settimana viva per la respirazione cardiopolmonare, ma c'è già un accordo per riproporre l'iniziativa e portarla in altre scuole, perché è importante comunicare questa educazione alla salute fin da piccoli. In Italia sono 60.000 ogni anno le persone colpite dal resto cardiaco. Oggi è la giornata mondiale dell'arresto cardiaco, per la gestione dell'arresto cardiaco. A Verona c'è già un progetto che si chiama Verona Cuore, in cui diamo questi insegnamenti, più un insegnamento della defibrillazione, agli ragazzi delle quinte liceo. Ma non è mai stata fatta un'iniziativa verso le quinte elementari, verso l'ultimo anno delle scuole primarie. E questa è la prima scuola che fa questa iniziativa, però poi allargheremo questa iniziativa a tutto sostanzialmente, a tutta Verona e provincia. Cosa bisogna fare? Le cose sono molto più semplici di quello che sembra. Innanzitutto bisogna chiamare il paziente, la persona, e dirle signore, signore mi sente. Se non ci sente, ci sono delle manovre semplici per vedere se il paziente respira. Se il paziente non respira, quindi se il torace non si muove, e se l'aria non esce dalla bocca, la cosa da fare è cominciare il massaggio cardiaco. È l'unica cosa da fare. Prima di aver fatto questo, dobbiamo chiamare l'118.